Pratoiani, che cosa diamo a questa sinistra per farla riprendere? Iniezione a medicina, ci vuole un po' di passione, non medicina. Noi abbiamo portato un po' di farmaci oggi. Psicofarmaci? Che cosa le diamo per recuperarle? Adrenalina, iniezione di adrenalina. Un po' di vitamine. La botta l'abbiamo metabolizzata, la botta c'è stata. Tutto, integratore, ricostituente, ha bisogno di tutto. Ha bisogno di qualcosa per affrontare questa assemblea oggi? Avrei bisogno di sinistra, solo di quello. Schiacciata tra Lega e Movimento 5 Stelle, la sinistra non si sente tanto bene, è sparita dal dibattito pubblico. E noi le andiamo in soccorso all'assemblea di liberi uguali, fornendo qualche rimedio per riprendersi dalla pesante batosta. Le ho portato un po' di farmaci, da quello che prese Grillo dopo le europee, ai fiori di bacca. Farmaci ne uso pochissimi, riesco a farne a meno. Non ricorre alla chimica, semmai è un bicchiere di vino, che è una cosa diversa. Hai preso antidepressivi? Siete vivi più che altro? Sinistra e cieco. Dio è morto, Marx è morto e neanch'io mi sento tanto bene. Oggi antidepressivi servono? No, oggi no, magari domani no. Ci fa addormentare la varigliana, noi dobbiamo essere svegli. A papaya. Prendiamo un po' di energizzanti tutti quanti. Si tratta di mettere qualche cerotto, abbiamo sbagliato quasi tutto. Beh, se nulla si può sempre arriviglia. La soluzione è fondare un nuovo partito e anche nel PD si guarda oltre Alpe a Macron per rianimare la sinistra moribonda. Un nuovo partito, l'ennesimo, è questa la soluzione? Io direi il primo, il primo grande partito della sinistra in Italia. Leo era una lista. Il Partito Democratico si sta esaurendo, ha ammainato le bandiere della sinistra. Quella casa lì si è sgarruppata tipo terremoto dell'Aquila. La ricetta non è macrona. La macronata non ha niente a che vedere con la sinistra, forse è la soluzione alla crisi di un'altra destra. Non è che questo kit è insufficiente e qua serve la rianimazione. No, non siamo stessi a terra. La vita ancora c'è, vediamo di non perderla troppo presto insomma. Che vi serve per riprendervi? Forse l'eutanasia, ecco mi verrebbe da dire. Quando uno è troppo malato, la soluzione sia dare il colpo finale per poter ripartire. Per far sparire PD, Leo. Ci vuole molto, dai adesso. Questa sinistra è malata, Leo mi sembra defunto, francamente. Ci vuole una risurrezione. Aspettare un miracolo, abbiamo sbagliato tutto oggi, il kit è sbagliato. Il kit è sbagliato.